La Commissione Controllo e Garanzia porta avanti questo lavoro praticamente fin dal primo giorno in cui è diventato di pubblico dominio la questione dei due licenziamenti. Già da prima si stava mettendo all'opera per approfondire quella che è stata la vicenda dell'allontanamento dell'ex direttrice Perrella. In entrambi i casi ci sono dei profili da chiarire. Purtroppo devo prendere atto che abbiamo avuto come Commissione grosse difficoltà nell'ottenere la documentazione che abbiamo chiesto. L'abbiamo ottenuta in maniera tardiva e incompleta e viziata anche da delle censure. Elementi che io ritengo non siano giustificabili per chi svolge il nostro mestiere che è quello di fare i consiglieri comunali a tutela e in rappresentanza dei cittadini. A questo proposito infatti la Commissione Controllo e Garanzia chiederà all'ufficio legale del Comune di Prato delle rassicurazioni per fare piena luce sul fatto che questi documenti possano essere veramente segretati.